no 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 ma che natale? ah se siete? ciao ragazzi scusate il video di oggi è su questo argomento smettila di prepararti e agisci perché questo titolo? ci sono tantissime persone che perdono molto più tempo a prepararsi a organizzarsi ad avere tutto perfetto ad avere tutto nel modo in cui credono sia migliore piuttosto che fare agire partire col progetto partire con una nuova attività partire con una che volete. Io ero uno di questi, ero un perfezionista. Prima di partire con un progetto dovevo avere tutti gli step perfetti, conoscerli a memoria. Io in questo video voglio darti tre suggerimenti per smetterla di raccontarcela, star lì a fare le cose perfette, a organizzarci, a prepararci, ma agire, partire. Il primo suggerimento è la famosissima legge di Pareto, la legge dell'80-20. Se volete informazioni su Pareto cercate su internet, ce n'è di ogni. Quello che io mi porto a casa e che voglio dare a voi in questo video è il concetto che sta dietro, il concetto che a noi serve. Il 20% delle nostre attività ci danno l'80% dei risultati. Chiediamoci sempre quali sono quelle attività, quel 20% di attività di un progetto che ci daranno l'80% del risultato del progetto. Concentriamoci su quelle all'inizio e partiamo col progetto, poi ci dedicheremo le altre. La seconda legge è la legge di Parkinson, anche qui andate a cercare su internet cos'è nello specifico. Io vi dico quello che mi porto a casa, quello che voglio darvi in questo video. La legge di Parkinson è la legge del pepe al culo. Come funziona? Molto semplice, prendete del pepe, aprite, vi spostate leggermente verso destra o verso sinistra, calate i pantaloni e versate un po' di pepe. Mamma, è caduto, si è versato. La legge di Parkinson è la legge, diciamo, della scadenza immediata. Diamoci delle scadenze immediate. Non parlo delle scadenze che abbiamo già, cioè quelle che ci danno gli altri. Parlo di scadenze che dobbiamo darci noi, perché quando abbiamo una scadenza immediata, il nostro cervello in automatico cerca di trovare la soluzione più rapida, cerca di trovare quelle attività essenziali che servono per arrivare a consegnare per quella data quel progetto. Il consiglio che aggiungo io è anche quello di magari renderla pubblica questa data, non tenerla solo per noi, perché possiamo anche fregarci. Dici, vabbè, dai, la spostiamo questa data. Dillo a un amico, a un collega, pubblicano online, pubblico sul gruppo Anonimo Multitasking. Insomma, dillo a qualcuno che se tu poi non mantieni quella data, viene a romperti le scatole e chiederti, oh, chi c'ho? Il terzo suggerimento è una frase che a me piace un sacco, è una frase di Tim Ferriss. La semplicità richiede spietatezza. La semplicità è sempre comunque l'arma e la soluzione migliore. Però è vero che non è facile essere semplice, non è facile trovare la soluzione semplice. Per questo bisogna essere spietati, bisogna tagliare i rami secchi, bisogna tagliare quello che veramente non serve, arrivare all'essenziale, come dicevo prima. Provate a pensare se aveste un attacco cardiaco e siete costretti a lavorare solo due ore al giorno, per salute, se no morite. Quindi solo due ore al giorno. In quelle due ore lì dovete fare l'essenziale, dovete fare quello che è indispensabile, quelle uniche attività che si avvano per partire con il vostro progetto, per fare il vostro progetto, per lavorare a quello che vi interessa. Provate quindi a ragionare con questa logica. Se dovete partire con un progetto, agire, muovervi, pensate a quelle uniche attività che dovete fare in quelle due ore. Poi nelle altre ore ne farete tanto delle altre, non vi preoccupate. In quelle due ore però vi dedicherete le attività principali, più importanti. Poi cercate di evitare quelle attività che lui chiama riempitempo. Sono quelle attività che tu fai solo per essere impegnato. Per dire, ok, tanto ho fatto questa piccola attività, quest'altra. Però in realtà sono quelle attività che ti salvano per sentirti a posto con te stesso perché sei impegnato, ma non sei produttivo. E sono quelle attività che ti distolgono però dall'agire, dal fare, dal portare avanti il tuo progetto. Perché? Perché fai attività che probabilmente ti fanno evitare di fare le attività che veramente dovresti fare. Perché forse quelle attività sono più noiose, sono più antipatiche, sono più difficili. Però sono quelle essenziali per partire col tuo progetto. Quindi, quando decidi di fare qualcosa, prova a pensare se sei produttivo in quel momento o solo impegnato. Stai occupando il tempo o stai veramente lavorando per arrivare al tuo progetto. Insomma, in questo video abbiamo parlato di come agire e non continuare a raccontarcela, a rimanere lì, a organizzarsi, a prepararsi. Tre suggerimenti utili. Pareto, 80-20, la legge del pepe al culo e la semplicità, che richiede spietatezza. Buono? Dai, stai buono, dai, dai, stai buono, stai buono, è buono, dai, 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 dai.